Grazie a tutti per aver disegnato in poche parole la visione anche strategica che in qualche maniera deve avere l'Europa partendo dal punto cardine, la mancanza forse di una roba politica che a questo punto può veramente affrontare, forse governare più che risolvere i grandi problemi che il continente sta vivendo in questo momento. Vi invito il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per il suo intervento, passandogli per quanto riguarda il titolo artista, vediamo a luogo che le regioni possono svolgere in quanto pezzi d'Europa per quanto riguarda questo processo. Siccome anch'io faccio parte di questa bellissima platea che vuole sentire Romano Prodi, mi conterrò e mi tratterrò proprio lungo lo spazio di un intervento che arricchisce la parte di interrogativi e di domande. Però permettetemi di dire davvero grazie per questa bella giornata a voi che siete venuti qui all'interno di questo presepe che favorisce la democrazia e gli approfondimenti ma anche la cultura istituzionale, la cultura economica. Laura, spiegavo a Romano Prodi la storia di questo edificio ma anche l'ambizione di questo edificio e penso che chi ha pensato questo edificio sia particolarmente contento ogni volta che si dà luogo a questo livello profondo e esigente di approfondimento. Grazie a te Presidente Prodi perché rappresenti diciamo nello spazio di coloro in quali si occupano dell'Europa e della costruzione europeista quello che a me piace definire come un euro costruttore. Così come voglio dire grazie a Caracciolo per questa opera di straordinaria e riuscita volgarizzazione dell'Europa e lo ha fatto con la bravura della sua competenza e con la resilienza di una iniziativa editoriale dicevamo prima con Prodi che ha la luce del miracolo perché l'IMES è la prova dell'esistenza di Dio direbbe il mio avvocato. Io dico semplicemente che è un miracolo che consente a ciascuno di noi di sapere sempre qualcosa in più e grazie che sei venuto a Pescara per la seconda volta. Io ti presenterei ai miei figli, a quelli che io conosco piccoli e bambini come un euro esigente e oggi hai dato prova di questo approccio, di questa cultura da euro esigente. E' il mio amico Cucchi. Voi dovete sapere che lui è un generale ma non è un generale qualsiasi. Non è un generale perché lo ha collocato tale un istituto di previdenza. Lui è stato il più grande servitore con questa qualifica di chiamata al servizio pubblico e ha seguito dall'alto di una elevatissima responsabilità il coordinamento dei servizi di intelligenza in Italia per tanti anni. E non ha fatto solo questo. Io lo voglio ringraziare da piccolo decisore territoriale perché quando c'è stato lui lì non è accaduto un minuto di disordine. E ha conosciuto dalle altezze di quel servizio davvero un'altra parte fondativa dell'Europa. Qual è l'ambizione di questa giornata? Noi abbiamo voluto conficcare a terra, diciamo, due corni tematici. Nomos e Chaos, che poi ha dato anche luogo, questa coppia tematica, alla intitolazione di una bellissima e ambiziosa rivista. Quella che anima sia Cucchi che altri amici che stimano e alimentano lo sforzo, l'iniziativa culturale e riflessiva di Romano Prodi. Bene, questa coppia tematica della regola, dell'ordine e del disordine è esattamente la coppia tematica che ci aiutano a rileggere che cosa sta accadendo in Europa. Perché noi abbiamo preso una cattiva abitudine a esprimere giudizi implacabili sull'Europa, non tenendo da conto che è un prodotto istituzionale, economico, incompiuto. Noi non teniamo da conto l'incompiutezza di questo cammino e organizziamo a riguardo un giudizio implacabile, quasi definitivo. Allora, la prima domanda è, perché il cammino dell'Europa si è interrotto? Qual è stato il sentimento individuale e collettivo che ha bloccato il cammino di maturazione dell'Europa? Io collocherei, caro professore Prodi, ma anche, mi rivolgo al direttore di Limes, io collocherei l'Isaquo quando, per esempio, nel 2003 non si è voluto esaminare e disanimare, per quanto riguardava la complessità che poneva questo, ad opera dell'Europa la lettura dei bilanci degli Stati Nazioni. Perché non si è preteso di dare una lettura all'altezza che facesse una operazione verità dell'ingresso degli Stati Nazioni all'interno di questa sfida, che è appunto la sfida dell'Europa? Perché ogni Stato Nazione ha riprecisato i propri confini di impenetrabilità e poi accade la Grecia. E io non mi meraviglio che accade la Grecia, con il suo carico di illegibilità, di indicifrabilità, ma anche con il suo carico di egoismo proprio dal punto di vista dell'approccio. Noi dovevamo lì essere esigenti e lì pretendere quote di cessione di sovranità. La cessione di sovranità ci avrebbe portato a stabilire delle regole adulte che configurava un'Europa come soggettività politica, sulla quale potevamo fare conto quando poi ogni volta la crisi si presenta e adesso è la crisi migratoria. Di questo via vai di popoli che naturalmente la globalizzazione porta con sé, ma ogni volta che la globalizzazione ha dato luogo alla esistenza di sé, come hanno reagito gli stati, le statualità, ingrandendosi anche al tempo dell'ingrandimento del nostro Stato nazionale. Che cos'è che ha spinto l'ingrandimento del nostro Stato nazionale? Una vicenda di crisi frutto allora di una dimensione di globalizzazione e noi oggi rischiamo di non avere gli annesi per reagire alla globalizzazione perché non abbiamo la configurazione statuale all'altezza. Qual è il livello dell'intensità dell'Unione che noi vogliamo insediare? Per esempio un livello di intensità che dovrebbe fare sì che il bilancio dell'Unione sia più grande per poter dare luogo a delle politiche. Il bilancio dell'Unione è soltanto da esistenza in vita e anche qui in ragione di un egoismo di alcuni Stati nazioni più di altri, e sono stati anche denominati, ma provate a immaginare per esempio tutta la partita che c'è oggi, qui ci sono anche giovani importanti nella vita di alcune significative aziende, tutta la partita del gigantismo delle imprese, della digitalizzazione, della economia digitale. E che cosa fa uno Stato nazionale nei confronti di questa straordinaria potenza delle imprese e della economia digitale? se non si attrezza, non si adegua, non dà luogo ad una evoluzione degna del significato di questa parola. Invece noi stiamo assistendo centimetro dopo centimetro, metro dopo metro al contrario della evoluzione che si chiama involuzione. Io non mi meraviglio che poi risultiamo inadeguati, invalidati e incapaci, come nella vicenda dei flussi migratori. Così come permettetemi, io vorrei per esempio che dal punto di vista anche delle grandi infrastrutture trasportistiche, che è un tema che mi riguarda come Regione Abruzzo, e che è un tema che riguarda anche quel titolo, quel dato di appunto da agenda economica ed istituzionale Adrigov, io non sono nella condizione di trovare una interlocuzione all'altezza in Europa perché anche sulle infrastrutture c'è una insufficienza di iniziativa, di energia e di capacità di operazione. Allora le domande che pongo al professore Pogli, quanto grande deve essere l'Europa? Che archeggiamento assumiamo rispetto alla Turchia? La Turchia come la vogliamo rubricare rispetto al cammino europeista? E ancora, per quanto riguarda la profondità dell'Europa, del suo costituirsi soggetto politico, la legittimazione democratica che noi diamo a chi assume ruolo di guida dell'Europa, quale deve essere? Non ce la fa l'attuale livello di legittimazione democratica. Mettiamo in discussione anche la legittimazione democratica. Io sono un lettore animato da passione studentesca dei testi di Limes e uso leggere, sottolineando in rosso e in blu, quello che devo ricordare e memorizzare. So che questo lo ha fatto anche un altro amministratore non territoriale ma nazionale come Enrico Letta. Bene, il tema della legittimazione democratica nei confronti dei vertici politici dell'Europa è arrivato il tempo di affrontarlo. È immaginabile una legittimazione che dal basso arrivi direttamente in alto alla classe dirigente. Quanti di voi conoscono Corina Crezzo? Io la conosco perché la sto corteggiando come commissario degli affari regionali. Ho la Violetta Bulls come commissario per le infrastrutture trasportistiche. Ma qual è il vincolo che lei può avere con il territorio se ha questa specie di nascondimento da legittimazione? Ultima sottolineatura che voglio fare al Presidente Prodi, sapendo che su questo sono anni che mi cimento. Il professore Luciano D'Amico ha fatto una introduzione che mi facilita ma anche Nicola Mattoscio. Presidente Prodi, la cittadinanza europea. Allora noi con gli stati nazionali abbiamo insediato la categoria della cittadinanza nazionale. Vedo un bravo professore di filosofia del liceo classico di Pescara, il professore Schenna, sono convinto che su questo ha animato ore e ore di dibattito con i suoi ragazzi. Con gli stati nazioni nasce la cittadinanza nazionale. Quel patto, quel vincolo che in ragione della fiscalità dà luogo a dei diritti. Qual è il contenuto della cittadinanza europea? Io non ho trovato nulla che sia stato oggetto di adeguata riflessione su questo campo. Che cos'è che riempie di sé il patto che lega il cittadino con l'Europa? Perché se è soltanto il diritto di non esibire il passaporto è poca cosa. Cioè se io sono disoccupato in una terra e mi sposto in un'altra senza esibire il passaporto, beh insomma mi pare che sia poco per motivarmi e farmi resistere rispetto ai venti della demagogia e del populismo che hanno fatto cambiare opinione ad una classe dirigente nazionale che da quel momento in poi, dopo l'esito referendario, ha assunto un atteggiamento, permettetemi una volta sola, stitico sull'Europa. Dopo l'esito referendario c'è stato un rimpicciolizzi di entusiasmi e poi a cascata da ultimo lo spettacolo della posizione dell'Inghilterra. Quello che ha detto Cameron anticipando come un spettro tagliente, sanguinante, faremo il referendum per vedere cosa deve essere il rapporto tra i miei cittadini e l'Europa. È chiaro che non gioca a favore. Allora chiedo a Romano Brodi sapendo che davvero lui ha scritto con la sua vita e sulla sua vita quello che oggi abbiamo di buono, di coinvolgente del cammino europeista. Secondo te come va riempito questo? Non del pensiero di Emanuele Severino. Emanuele Severino il 3 agosto ha firmato per la centralità del suo articolo un editoriale dove dice che non c'è nulla da scommettere sull'Europa, tanto alla fine sarà la guida di scienze tecniche, la politica e la democrazia verranno messi definitivamente da parte. Quella è esattamente la patologia che noi dobbiamo fronteggiare e anche contrastare. Ma dico a te e concludo, questo popolo che sta qui è un popolo che da tempo non partecipava ad appuntamenti di questa caratura. È tempo che tanta gente non si riunisce davanti a delle persone per affrontare temi di questa levatura. Perché viene qui? Perché tu rappresenti, voi rappresentate il segno che una evoluzione in avanti è ancora possibile anche su questo tema difficile dell'Europa. E il ruolo delle democrazie territoriali è fondamentale. Il ruolo del superamento, dell'appalto alle cancellerie è straordinariamente fondamentale. Però io chiedo a te, aiutaci a riempire di significato cosa ha da essere l'Europa anche nei confronti della pretesa, dell'attesa, del ruolo anche attivo del cittadino. A me è piaciuto molto quando in ragione dell'incarico che ho a Bruxelles all'interno del Comitato delle Regioni, e quello è stato uno sforzo di legamento col territorio, ho visto l'entusiasmo di giovani a migliaia del progetto Erasmus. Quella Europa lì si capisce, è l'Europa della formazione, è l'Europa di un'abilitazione che consente davvero di diventare protagonisti. Su questo ti dico grazie professore e noi continueremo a dare il nostro contributo. Grazie al Presidente Alcorto, per evitare il Paese, ma anche per evitare la grande tecnologia che purtroppo non basta attraverso l'Europa. Adesso vi prego, si accomodi Presidente Brodi. Sono quasi commosso. Mi ho ormai disabituato a vedere tanta gente e davvero mi fa un enorme piacere che siamo qui a discutere di Europa, a discutere del nostro futuro e poi la mia mi è stata, ha reso molto più facile dai discorsi introduttivi. A questo punto dovrei solo aggiungere grazie e andarmene via, perché il quadro è già stato fatto in modo assolutamente perfetto e il problema dell'Europa è già stato posto da tutti gli oratori che mi hanno preceduto in modo esauriente. Voglio solo aggiungere alcune esperienze personali, alcuni fatti più emotivi che non razionali, perché l'Europa deve essere anche un fatto emotivo. Se noi non la sentiamo come un problema di emozione, la politica non è solo c'è bene, la politica è anche il cuore, la politica è quando si è costretti a capire, a volte con le spalle al muro, che si capisce che bisogna mettere da parte risentimenti, problemi, ragionamenti anche e fare un salto in avanti. Mi ricordo quando si parlava dell'euro con il cancelliere Kohl e c'era un economista, tutti, mi entusiasmo per l'euro, ma anche i problemi, le riserve, dicendo appunto che accanto all'euro bisognava anche affrontare di solito il problema dei bilanci pubblici, il problema del coordinamento dell'economia, no? E questo mi risponde, io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. E poi aggiunge i tedeschi, i miei concittadini non lo vogliono perché hanno paura, ma io voglio l'euro perché altrimenti noi non riusciamo più nulla. Poi il resto, tu sei un italiano, sai che Roma non è stata fatta in un giorno, il resto verrà, il resto verrà. E l'idea di dire io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra, guardate che non è un'idea irrazionale. l'idea irrazionale. Anche se la cosa che mi fa in questione, io quando vado a parlare d'Europa ai giovani, agli studenti, mi è toccato smettere di parlare di pace perché è ritenuta come garantita, no? Quella civile a parlare, tanto ormai guardate che non è garantita. fuori dell'Unione Europea abbiamo avuto le guerre in Oslavia, abbiamo dei conflitti in Ucraina, quando mi parlano, ma l'allargamento è stato fatto in modo prematuro. Pensate se la Polonia fosse nella condizione dell'Ucraina, o l'Ugheria o gli altri paesi che hanno in questo momento questi problemi. Guardate, l'Europa è una costruzione preveduta indispensabile, poiché viene fatta, deve essere fatta con un grande sentimento politico, con il capire che è indispensabile ma costruirla anche con la flessibilità e con la capacità di interpretare i tempi che non solo la ragione, che non solo la ragione ci dà, ma come dicevo prima anche il cuore, il sentimento. Guardate che l'Europa è ancora una grande realtà. Ha fatto bene Caraccio il primo a descrivere i numeri terribili anche della diminuzione demografica. La Germania, se non ha immigrazione, fra 30 anni ha meno abitanti nella Francia. Adesso ne ha 20 milioni in più, più di 20 milioni in più. Pensate cosa vuol dire il declino demografico. Spagna, Germania e Italia hanno un declino demografico enorme. Noi in una generazione perderemo 4 milioni e mezzo di abitanti, più dalle città di Roma, come il Lazio quasi. Però, ecco, riflettiamo su una cosa. Nonostante questo, oggi siamo ancora il numero uno, pare, negli Stati Uniti per prodotto nazionale o per ricchezza. Siamo il numero uno di gradone, soprattutto negli Stati Uniti, per produzione industriale. Siamo il numero uno per esportazione. Tutti insieme esportiamo più della Cina. Quindi, vuol dire, abbiamo ancora dentro di noi delle energie e delle forze che ci dovrebbero permettere di riassumere un ruolo, di ridersi del mondo. Eppure, quando... E per me è un'esperienza personale, non dico drammatica, perché essendo padano non sono mai drammatico, ma, quando sei anni fa ho cominciato a fare dei seminari in Cina, gli studenti della Business School tutti mi chiedevano i seminari sull'Europa. Oggi non glielo frega niente a nessuno. I seminari. Questi sono fatti che vi sentite, che vi sentite, che vi danno turbamento, perché è chiaro che il futuro si costruisce solo con un dinamismo che noi sembriamo di perdere, di voler perdere. E questo è il primo problema. Ma perché è successo questo? Perché dal tempo in cui il condice, io voglio l'Euro, anche se i tedeschi non lo vogliono, è perché siamo arrivati al momento in cui ogni piccola decisione causa un problema. Perché all'Europa della speranza e della costruzione, che è stata l'Europa dell'allargamento dell'Euro, è arrivata l'Europa della paura. È arrivata l'Europa in cui i governanti, per combattere, per paura dei partiti populistici, hanno cominciato ad essere populisti anche loro, legando in teoria il populismo e pratica, seguandone tacitamente le orme. Cioè, senza avere la grande politica alternativa. E guardate che non si vive di pezzi e di insegnamenti. Si vive di grande politica. Si vive con un disegno. E in questo momento il disegno è venuto meno. Che cosa è successo? Quali sono le paure? Le paure sono state due in questi anni. Una, paura che chiameremo politica, paura dell'immigrazione, paura dell'ordine pubblico che si perdono, paura di tutte queste cose. Un'altra, economica, soprattutto dopo l'arrivo della crisi, paura. E abbiamo il populismo di destra e di sinistra che hanno abbracciato alternativamente una o un'altra paura. E i governi europei a inseguirli senza un disegno. Io dico, analizzando la politica futura, che se qualcuno mette insieme questi due populismi, come alcuni, come la Nebem in Francia ha cominciato a fare, come vedo orientamenti anche in Italia, diventa una miscina esplosiva che rompe tutto il sistema. E' chiaro che, quindi, è cambiato tutto in questi anni. Ma è cambiato in modo non irreversibile, non irreparabile. Bisogna ancora ricostruire questo. Ma occorre un lavoro politico molto paziente, molto... E questo è reso difficile dalle evoluzioni della democrazia, non solo europea, ma della democrazia, della democrazia. Cioè, vedete, mi diceva appunto il Ministro degli Esteri del Partito Comunista Cinese, no? Il Ministro degli Esteri Cinese, ma quello che dà la linea, quello del partito, no? Diceva, ma come fate voi ad affrontare i problemi ideologi, no? Che avete le elezioni comunali, regionali, provinciali, nazionali, europei, e la mia risposta è che ci siamo affezionati, tutto sommato, no? E il ragionamento, ed è un ragionamento di una grande affidatezza che si deve obbligare a pensare, cioè, non sono le elezioni ripetute, ma il fatto che, avendo questa continua elezione e incrociandola con tutte le analisi demoscopiche, ogni elezione, parziale, è diventata un'elezione di classe nazionale, un'elezione che cambia le decisioni dei governi e quindi delle istituzioni europee, cioè, l'elezione del Comune di Pescara è una classe nazionale, e questa è la novità della nostra democrazia. E allora, in questa riflessione, se volete che viene dall'esterno, dalla cinghia, ma che gli deve far riflettere, diceva, voi accorciate sempre più l'obiettoria e pensate alla politica del prossimo mese, mentre i problemi sono sempre problemi di lungo periodo, sono le pensioni, sono la scuola, sono il redistributo dei redditi, sono cose che non sono affrontabili nel breve periodo e quindi, attenzione, che qui la democrazia viene messa a rischi. Nel caso europeo questo è un problema profondissimo, perché con il passaggio dei poteri dagli organi sovra nazionali, che in fondo potevano bilanciare i problemi, siamo passati a una nuova delle nazioni in cui la Commissione ha perso totalmente potere, ne sta parzialmente realistando solo adesso, parzialmente, perché i dieci anni scorsi sono stati un passaggio completo di potere. Prima è stato accennato al discorso del bilancio, tu ne hai fatto accennio. Guardate che nel 2003, sotto presidenza italiana, io ho presentato la Commissione Europea, una notte faccio il rilievo che dovevo fare, che Francia e Germania erano andati fuori dalle regole europee, e di poco erano andati fuori. Schroeder, socialdemocratico da un lato, sta così di destra dall'altro, mi dicono tutti, tu taci, taci, una presenza italiana felice di assentire, taci perché questo è un potere del singolo Paese. A questo punto faccio presente, sì, però mettiamo almeno un'istituzione che certifichi bilanci, no? Una corte dei conti europei, no? Gli svedesi spesi inutili burocrazia, eccetera. Allora di qua, andiamo in carico all'Eurostat, è l'ufficio statistico che esiste, c'è già, non costa nulla per queste prebrogative degli stati. Allora la Grecia ha imbrogliato tutto, perché poteva imbrogliare, perché l'ha lasciata imbrogliare, e allora invece di imbrogliare l'0,50 ha imbrogliato del 10%, però il concetto era, o noi accettiamo, una sovranità sui grandi sovranazionali, sui grandi temi, oppure l'Europa sceglie la via delle azioni. E ad agio ad agio noi siamo andati in questa direzione, con però un grandissimo cambiamento, che mentre in dieci anni fa c'era un certo equilibrio fra la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, per cui tutti i paesi nelle riunioni in fondo giostravano fra l'una e l'altra, si trovava un certo equilibrio faticoso, intediamoci perché le riunioni duravano giorni e notte, ma si trovava un certo equilibrio, poi quello succede, c'è stato un indebolimento francese e una chiusura politica all'interno della Francia. La Gran Bretagna ha avuto la grande idea di indire un referendum, ma non subito, in modo che si posesse a prendere le decisioni, dice, fra quattro anni facciamo un referendum per stare fuori o dentro. In tutti i paesi europei a questo punto che c'è da fare? La Francia si indebolisce, la Gran Bretagna vuol dire, se vi siete membri di un qualsiasi club sportivo e vi chiede il voto uno che dice, però fra tre anni io cambio città, voi non è che gli date il voto, no? Questo è successo e la Gran Bretagna ha perduto il potere, il voto impressionante. Tutti i paesi sono corsi sotto l'ombre del tedesco. La Germania, che è già una venda della sua, di rialzarsi è diventato l'unico punto di un fenomeno europeo. Capite che questo cambia profondamente la natura. Poi abbiamo il caso greco, in cui io personalmente ritengo che la politica tedesca sia stata sciagolata, il caso invece di un'effettiva leadership che ha ricordato comunque in cui la politica tedesca ha dato un esempio, poi sembra che ieri abbiano cominciato a pentirsi, ma questo vedremo come andrà nella cosa nei prossimi giorni, ma sempre nella decisioni del paese. Allora, attento, questo non è l'Europa. Questo non è l'Europa, no? L'Europa, indubbiamente, in cui, ed è chiaro che riprendo il disegno di tutti gli oratori precedenti, dobbiamo aver fiduci e speranza perché è un disegno talmente nuovo che esige tempo ad essere portato avanti. Voi pensate che quando c'è stato l'allargamento ai nuovi paesi improvvisamente ci siamo trovati ad avere 22 lingue diverse, no? Allora, veramente dalla commissione che il governo si lavora su tre lingue, e io durante la commissione ho mai una parola in italiano, nel Parlamento ognuno usa la propria lingua, quindi ci trovavamo di fronte, qui ci sono i professori di matematica, avere la necessità ognuno di avere 22 moltiplicato 21 in tempi, cosa assolutamente impossibile. E lì il problema della va bene delle lingue, dover risolvere, l'abbiamo poi risolto prendendo in prestito il sistema sovietico della lingua perno, no? cioè dal naltese all'inglese e dall'inglese allo svedese e c'è il traduttore che fa da ponte in questo modo. Lo dico per dire retentiva difficoltà di portare avanti questo disegno, che però, allora dite, ma perché non lo lasciamo andare? Perché non lo lasciamo andare? Allora, quindi, io veramente faccio sempre un esempio di una semplicità estrema. L'Italia nel nascimento, le regioni italiane e i stati italiani erano i primi nel mondo, non erano i primi nel mondo. Nel 1500 il record di rendito mondiale era della Toscana e della Cina, così dico gli storici, ci credo anche se non ho potuto verificare, no? E gli stati italiani erano i primi in tutto, non erano i toni. L'arte, la scienza, l'ottica, le armi, tutte le innovazioni, la finanza, la partita doppia e via via via. posso prestare ai grandi regni del mondo. E quello di qui. Cos'è successo? E' successa la prima globalizzazione, la scoperta della vera. Le caravelle non erano più lunghe così, ma dovevano essere lunghe così. nessun realista italiano era capace, in grado di fare una caravella. Siamo finiti, per 350 anni non siamo più apparsi dalla carta geografica. L'Europa oggi è nella stessa condizione. Le caravelle non sono più le darie, sono le grandi reti. Se voi pensate alle grandi reti che circondano il mondo, pensate a nomi che noi non ci pensiamo, li usiamo tutti i giorni, ma non pensiamo a cosa sarà per i nostri figli, no? in GPS, Google, Apple, Alibaba, Amazon, Ebay, tutte queste cose che ormai stanno condizionando la vita economica, no? In un anno Amazon avrebbe più di qualsiasi catena libraria, sta mettendo fuori i giorni, ha detto via 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 via. Ora, queste grandi reti che avrebbero il mondo sono americane e cinesi. Non ce n'è una europea. E quando nella commissione europea io cercai di costruire, perché allora c'era soprattutto il problema di GPS, ci siamo accorti che durante la guerra di Mosbana l'America aveva sospeso il funzionamento del GPS per qualche mezz'ora e quindi che dipendevamo dal nostro futuro dell'America e immediatamente la Gran Bretagna dice no, il sistema Galileo europeo non si può fare perché costa troppo. Poi la Germania, eccetera. Cerca di farlo insieme alla Cina e alla Russia, no perché per scopo militare non lo si può fare. risultato, oggi la Cina ha mandato 16 satelliti già per fare il sistema concorrente al GPS, noi ne abbiamo mandati 4. Questo è il problema di perdere il cammino con la storia. Ecco perché è così importante costruire un'unione politica che possa prendere queste decisioni. ma certamente ci vuole un discorso di legame democratico, no? Di legame democratico, di rispetto di tutti i stati. Anche qui, per alleggerire sempre un'anedotica che serve, no? Quando c'era il processo di allargamento, io cominciai le trattative con la Romania, con la Romania, però dopo che io ero per cominciare. e nella prima riunione del Parlamento rumeno, no? Ogni partito ha fatto il suo bel discorso sull'Europa. Alla fine si alza un signore con la banda, no? che con la sua stessa figura si imponeva su tutti. E comincia il discorso definendosi un parlamentare, un membro della minoranza non ungherese del Parlamento rumeno, per vedere la complessità dell'Europa, no? Così cerchiamo di capire qualcosa. E fa un meraviglioso discorso in favore dell'Unione Europea, sulla gesta politica, poche le cose che abbiamo sentito stasera. Alla fine gli ho chiesto, ma come mai lei è così calorosa nei confronti dell'Europa? E questo mi dice, vedi? Io sono membro di una minoranza, come ha capito. Mio nonno è stato ucciso perché è membro di una minoranza. Mio padre è stato esiliato perché è membro di una minoranza. Io voglio che il mio Paese entri in Europa, perché l'Europa è un'unione di minoranze. è la più bella definizione dell'Europa. Ma oggi, oggi non è. Il mio Paese è il mio Paese. Per gli scriviti di oggi, politicamente, noi non abbiamo più questa unione di minoranze che ci obbliga a far fermentare l'unione politica di cui parlavamo prima, no? Oggi, come vi ho descritto, abbiamo una struttura piramidale con il Paese che, crediamoci che la Germania è in questo ruolo per il suo virtù e per gli errori degli altri, non per il suo demerito. voglio dire che sia ben chiaro, io ho trovato assolutamente un prodotto industriale e ho sempre ammirato tutto davvero il sistema industriale tedesco e lo facessimo un nome in questo sistema in cui il vero segreto è la grande dignità di chi lavora con le mani, la grande dignità del lavoro materiale, della tecnologia, la grande dignità di coloro che partecipano, cioè è la gara dei fornai del Paese che parlerà della Germania, non è la Siemens, capite? questo è... e quindi non ho nulla, ma di fatto si è creata una disfunzione, no? un grosso problema che il successo è talmente grande, no? hanno andato in Cina e tutte le manche di lusso sono tedesche, no? è chiaro che nasce un istinto nazionale, no? e voglio dire che questo ad agio ad agio diventi l'idea che un Paese, come ci sono i Paesi immediatamente satelliti, possa fare da solo nella globalizzazione. Io sono convintissimo che nessun Paese, nemmeno la Germania, nel mondo che abbiamo sentito descrivere da Calaccio prima, possa fare da solo, ma abbiamo questo intervallo, no? faticoso di pensieri, e nel frattempo si è fermato il discorso dell'allargamento, di dove si è trovato l'Europa, questa discussione che pure era necessaria, era necessaria, chiedeva prima ad Alfonso, ma la ducchi, no? voglio dire, a mio parere, prima raccontiamo la storia, poi raccontiamo su quello che è il mio parere, quando c'è stato il problema dell'allargamento alla Turchia, la Turchia è stata una... la negozia c'era cominciata da un discorso improvviso, per la Maesse chi non era uno del peggiorno, Chirac si alza e dice, devo cominciare le negoziazioni con la Turchia, il mio parere è pronto, parte Solana, parte il primo ministro finlandese, e tutto è vero, va bene, cominciamo a farlo il caccianiero austriaco che dice, no, ricordatevi l'assedio di Vienna, ma questo è un problema opposto, avendo già andato. Poi Chirac torna in Francia e si accorge che il popolo francese è contrario, è contrario fortemente, allora cosa fa il popolo politico? Dice, però partezione, va dopo un referendum, e tutti gli altri politici, anche noi facciamo il referendum. A questo punto cominciano queste lunghissime negoziazioni, e la Turchia rintrova l'Europa giustamente di averla orientato tutto. Io stesso fico un'intervista alla Turchia turca, che ricordano ancora, in cui mi dico, ma come mai lei presente che ha appoggiato questo allargamento, poi ci dice che ci vorranno trent'anni al meglio? E la mia risposta è stata molto semplice. Beh, mia nonna, quando aveva qualcosa di spaventoso, diceva, mamma di tutti, dico qualcosa, noi dobbiamo aggiustarlo, perché i popoli hanno... E poi, però, cosa è successo? Che, o a causa europea, o, io ritengo, più a caglioni in terra, è cambiata la Turchia. La Turchia è diventata una potenza regionale, e una potenza regionale non aspetta a prendere delle decisioni che a Bruxelles si facciano 66 milioni. La Turchia un giorno caccia via l'ambasciatore di Israele, l'altro giorno caccia via quale Giziano, poi fa una serie pro, una serie contro, poi fa la serie contro i furni. A questo punto non ha più, secondo me, una politica compatibile con l'entrata dell'Unione Europea, no? Poi forse la storia si ricompone, i negoziati continuano ad andare avanti, ma vedo che questo orizzonte procede in due direzioni diverse, quindi se mi chiedi con il confine d'Europa, io dico l'Europa si ferma ai Balcani, però non mi riclude tutti, compresa la Barriera. Ecco, poi i confini d'Europa di oggi si fermano con l'Europa. Ma c'era una proposta di politica vera che si chiamava l'anello degli amici, cioè ci fermiamo qui, ma tutti i paesi che sono vicini all'Europa, proprio per creare, per continuare la funzione di pace che avevamo, dalla Bielorussia, Ucraina, a Fioria, a Siria, a Israele, fino al Marocco, tutti quelli che confinano con l'Europa hanno il diritto di cominciare i trovativi bilaterali su tutti i temi di politica e di economia, escluso la partecipazione agli organi istituzionali. Infatti il progetto si chiamava Tutto tranne le istituzioni. Ma, di fronte alla evoluzione che ci sono state, questo progetto dorme. Allora, attenzione, io penso che prima o poi la storia debba risvegliare questi progetti, perché il progetto europeo non è la prima volta che è in crisi. Abbiamo addirittura avuto un lunghissimo periodo del tempo in cui la Francia era fuori dall'istituzione europea, per esempio quella della senghia vuota e dei nori, in più giorni non posso ricordare, ma la Francia non partecipava di oggi. Abbiamo avuto delle fortissime crisi, ma quando il disegno collettivo punta contro i problemi della storia allora si ritorna verso una cammina dell'Unione Europea. Io penso che noi prima o poi ritorniamo verso questa necessità della storia. perché il problema della nostra immarginazione è un problema troppo urgente, troppo forte. Ed è chiaro che l'immarginazione politica di fronte alla forza economica che ora abbiamo deriva tutta e solo dalle nostre divisioni. Divisioni in un grande problema di politica estera che ora non è mai stato detto. Io vorrei ricordarvi, anzi vi dico le tensioni che abbiamo veduto la concessione europea vieno durante la guerra in Iraq. La rottura con Blair, Francia, Germania da un lato, Italia, Spagna, Gran Bretagna dall'altro lato. Tensioni continui su questo tema. Quindi quando si ha una tensione sul problema della pace della guerra, non si può avere una politica. Finché non sia una politica estera di difesa comunque non si può avere una politica. E' questa che noi dobbiamo costruire con il tempo e costruire con pazienza. E la stessa cosa è stata con l'economia di Gesinto e l'arcalista. Pensate alla guerra in Libia. La Libia è una cosa, per me, in una dinamica, no? Poi c'è anche una lunga storia personale perché ho avuto sempre rapporti, ovviamente, rapporti continui, positivi e negativi con Gheddafi, il tentativo di filmare tra l'altro di amicizia che poi non ho voluto filmare perché non era ancora completo, eccetera, eccetera. Ma, vedete, Gheddafi aveva sempre portato terribli problemi di politica internazionale nelle zone vicine, no? Era sempre stato quello che negli inglesi si diceva un travel maker, cioè un casilista, insomma, un prodotto italiano, che aveva portato conflitti inciati in tutte le altre zone. e poi è arrivato un momento nella sua vita in cui a Grigio non non teriva nulla in questo. E ha fatto dei passi, pur rimanendo orrendo dittatore all'interno, sia chiaro, non sto, sto, è un orrendo dittatore, no? Pur essendo rimasto questo, ha cominciato a capire che non aveva più alcun interesse da portare turbamento nell'area. e allora ha fatto dei passi incredibili al pagamento del famoso aereo francese dell'Unti, di Walker, di pagamento per la discoteca La Belle di Berlino, tutte queste cose, tra l'altro, ho dovuto anche assistere a delle strane recriminazioni, no? che i loro morti erano stati pagati meno di quelli americani, no? Di questo tipo, no? Ma, hanno dato conto, questo vuole diventare il re dell'Africa. e comincia una politica più non militare, ma di spazio economico, possiamo dire. Addirittura la Libia pagava il 25% del bilancio dell'Unione Africana, un paese di 4 milioni di abitanti che pagano il 25% del bilancio è chiaro, che ripeto, non è la politica interna, tittatore, ma con un paese formato da tribù estremamente diverse fra di loro, no? tra l'altro, devo dire che tutte le volte che erano andati in Libia hanno sempre preso contatto con le tribù, perché è un paese complicato, no? Improvvisamente si attacca alla guerra, si rompe questo equilibrio senza pensare in quello che poteva venire dopo. Ed è un altro degli episodi che ha scomporto non solo la realtà del Mediterraneo ma ha reso impossibile tutte le trattative dell'immigrazione che sarebbero stati comunque difficilissimi ma non impossibili assolutamente avvenuti adesso. Ed è stato d'Europa divisa, la Germania non ne ha voluto sapere. La Francia e la Gran Bretagna erano al fronte rispetto a queste decisioni. Non capisco l'Italia perché la prima volta nella storia chiede di un paese che paga per una guerra contro se stessa ma questo è un altro problema abbastanza difficile da comprendere. E allora accorrono molto nell'Europa divisa e nella politica del Mediterraneo, adesso ho dovuto anche troppo a dire, la politica del Mediterraneo la divisione è stata ancora maggiore. quando c'è stato l'allargamento, questo mi interessa, la brutta interessa delle ragioni, quando c'è stato l'allargamento tutti i paesi, i griglietti dei paesi del sud del Mediterraneo, ovviamente dei programmi dicendo se non voi guardate solo a nord e a est, la mia risposta era ma qui è passato un treno della storia, c'è urgenza, ma ho un impegno di tutti i paesi di andare verso il mezzogiorno con dei progetti. e questo non è assolutamente avvenuto nemmeno per piccole cose. Cioè la proposta della Banca per il Mediterraneo è stata bocciata, la proposta invece prima dell'area degli amici che interessavano è stata bocciata, la proposta non si è voluta nemmeno passare a una proposta di una elementalità totale dalla costruzione di università a cui io chiedevo moltissimo, l'università metà nord e metà sud, non so ad esempio, visto anche alla sedia della Catania e a Tunisi, uguale al numero dei professori del nord uguale al numero dei professori del sud, uguale al numero dei studenti del nord del sud e gli studenti che fanno due anni a nord e due anni a sud. E per evitare tutte le grandi religiose cominciamo con l'ingegneria e il fabbaccio del ferro. Su tutto questo, niente, gli stati generali hanno detto le risorse economiche e veniamo all'ultimo punto sull'Europa in generale, ma c'era una rafforso al bilancio, tutto il bilancio dell'Europa e dell'Unione Europea è meno dell'1% del prodotto nazionale europeo per il 97% non finito io. Allora, nello Stato federale c'è almeno dal 20% al 30% il bilancio europeo, e lo siete venuti in questo modo. Guardate che dell'1% ci sta la burocrazia è abbasciata all'estero tutta la politica agricola che prende il 40% di questo, la politica di ricerca, eccetera. ecco, il problema dell'Unione Europea che ha l'obbligo di grandi disegni è che i paesi nazionali tengono ristretto in un ambito minimo e il Sud è stato, sotto questo aspetto, emarginato, non solo nel problema tra la mia franchezza dell'immigrazione perché finché il problema toccava solo l'Italia alla fine era un problema puramente di gestione burocratica. Quando il problema si è largato da altre parti è diventato un grande problema politico e l'America è stata intelligentissima ha dimostrato leadership come ha detto pochi prima leadership ha controllato scegliendo bene per il futuro e il proprio paese perché scegliendo gli esuli i rifugiati seriani c'è il 40 per cento di laureati il 50 per cento di diplomati e l'unico il 50 per cento di eralfabeti allora voglio dire questi immigrati è un'opera cristiana ma è anche un'opera umana ecco e vediamoci il grande politico unisce l'utile direttevole ecco quindi quindi assolutamente niente però attenzione è che questo porta due pesi e due misure in parte giustificate dalla diversa latura fra profumi politici e profumi economici ma con una distinzione che nel futuro non riusciamo più a tenere quando il presidente diceva il mio paese aumenterà la popolazione non più in 22 anni ma con una distinzione la mortalità infantile in 18 anni in 18 anni aumenterà la popolazione e l'età mediana di questi paesi è al di sedo 8 dei 20 anni italiane tanti più vecchi tanti migliori noi siamo 46 adesso quanto siamo voi voglio dire di fronte a queste cose della storia o non li gestiamo a livello continentale oppure non sono gestibili per quello che dico prima o poi la forza delle cose ci obbliga a portare avanti questo disegno che intanto esiste che intanto esiste e quindi è importante che esiste il punto di riflessione è il nostro meridione no? e quindi ho un problema serio perché mentre tra il Germania dell'est e il Germania dell'Ouest le differenze si sono sempre diminuite mentre sono i paesi più poveri le differenze sono diminuite nell'Italia fra l'ordine sud le differenze sono fortemente aumentate anche gli anni a crisi il nord è andato indietro un po' il sud è andato indietro un bel po' e questo è un problema di importanza enorme ma a cui mi rivolgo al vostro presidente quindi occorre un assoluto saltare avanti fra le regioni e le regioni se loro non fanno un blocco di coordinamento degli investimenti e di coordinamento di una politica e quindi in un po' un'angolo italiano vi ho fatto proprio un'angolo italiano o un'angolo italiano o un'angolo italiano e un'angolo è e le regioni che mi rendevole il discorso qui non cambia assolutamente nulla perché ogni singola metriore troppo per farsi sentire a Bruxelles e la frammentazione statistica incendendo anche la scaranza del medogiorno perché occorre, e aveva scritto un bellissimo articolo di Eschi recentemente, occorre non solo una politica di infrastruttura ma una intera politica economica globale, trovare individuare quelle città che possa avere l'uomo superiore del mismo nella ricerca, concentrare le ricerche, fare dei grandi polituristici in modo che ci sia la competenza di avere la Royal Air che fa il discorso quotidiano, se non si fanno assieme questi discorsi si perde, perché penso che la Sicilia ha il 9% dei turisti delle Baleari ma mi viene da ridere, per non piangere, perché non ha senso, non esiste il problema, se non della foria della nostra frammentazione e non sapevo realizzare la nostra politica, quindi attenzione che in questa Europa il discorso degli equilibri deve essere portato avanti da una forza politica interna, ha fatto l'esempio nel 2008 perché siamo qui a Pescara dal punto di vista delle politiche economiche, è chiaro che secondo me occorreva, ma non è stato possibile, una forte alleata fra Francia, Italia e Spagna negli anni scorsi, soprattutto nel caso greco, in modo da adottare una politica diversa, non una politica contro la Germania, ma anche la Germania deve avere tra il 7 e l'8% di surplus della bilancia commerciale, non avere il bilancio assolutamente in pareggio mentre potrebbe e dovrebbe essere la loro cotica dell'Europa. Chiaro, la politica la diceva loro, va bellissimo, ma attenzione che questo rompe lo spirito, e loro credo di cosa abbiamo bisogno. E nello stesso tempo è chiaro che gli interessi che noi dobbiamo portare avanti in Europa e coordinati con gli altri possono essere portate avanti solo se c'è una forza politica. Da quello che dicevo, le singole regioni medagliori non hanno la possibilità di farsi ascoltare. Capisco che non è facile per motivi politici, per motivi di personalità, avere questa unione, ma se non si ha, si è assolutamente perdente. E questi sono i ragionamenti che io volevo fare qui in modo molto scordinato, molto libero, ma dando il senso della sfida e anche delle prospettive che noi abbiamo. e io credo che, appunto, di fronte a un disegno storico, senza alternative, poi ci stacchiamo di perdere. Insomma, interviene un discorso di maggiore senso dell'interesse, dell'interesse comunque. È chiaro che non possiamo fare se lasciamo la strada ai populisti, alle divisioni, se la politica di Orban diventa la politica europea. Ma io credo e ho fiducia proprio in questo senso della storia di recuperare questa occasione, essendo ancora, ripeto, il numero uno nell'economia mondiale, essendo ancora, avendo delle risorse economiche, politiche intellettuali straordinarie, non lasciamo che l'interesse mondiale venga presa da altri in modo assolutamente irreparabile. Grazie. 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 Il guardo del mondo, l'esportazione guarda del mondo, però la domanda che la vorrei fare, fra quindici e vent'anni, che Europa ma arriva in fronte? Beh, non dipende da come viaggiamo stavolta, è un contissimo esotitivista, ci vuole gente, comunque ho fatto l'esempio delle lingue per dire la diversità che impartiamo, però ricordatevi che la funzione dell'euro con tutti i poteri visti è una struttura completa dello stato nazionale. Il postato nazionale è l'esercito e la moneta prima l'abbiamo messo insieme, adesso andiamo avanti, è una interazione di atto.